Se l'Abruzzo fosse l'Italia, il Movimento 5 Stelle governerebbe da solo. Il paradosso rende l'idea della proporzione con cui i pentastellati hanno vinto le elezioni nella regione. Quasi cappotto all'uninominale, presi 5 seggi su 7 e una messe di voti al proporzionale che vanno ad amplificare la pattuglia grillina che dall'Abruzzo arriverà in Parlamento. Certo aiutati dal vento nazionale ed europeo che soffia sulle vele dei partiti definiti dai più antisistema, ma per stessa ammissione di diversi esponenti regionali del Partito Democratico, oggi al governo delle istituzioni locali, i grillini sono stati premiati per il lavoro fatto dagli attivisti sul territorio, quasi casa per casa, esulta il consigliere regionale Domenico Pettinari, che sottolinea la sconfitta politica del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso. Il dato è la grande sconfitta del presidente D'Alfonso. Il presidente D'Alfonso è stato bocciato sotto tutti i fronti, una regione Abruzzo ha dimostrato, i cittadini abruzzesi hanno capito bene quello che ha fatto il regione Abruzzo, tagli della sanità, tagli dei trasporti, noi lo abbiamo sempre detto, i cittadini abruzzesi hanno premiato il Movimento 5 Stelle, hanno premiato il programma del Movimento 5 Stelle, hanno premiato il modo di comportarsi dell'onestà del Movimento 5 Stelle, dei valori sacrosanti che abbiamo sempre sbandierato. Risultato storico, risultato importantissimo e quindi questo ci rende fieri ed orgogliosi e adesso ci proietta verso il governo di regione Abruzzo, perché presto si voterà anche in regione Abruzzo e siamo pronti per governare soprattutto regione Abruzzo. A livello nazionale è arrivato anche un ottimo risultato, mentre lei parlava proprio dei riflessi regionali, siete pronti per le prossime elezioni regionali, ma le chiedo, visto che abbiamo fatto la stessa domanda anche ad altri esponenti politici di centro-destra e di centro-sinistra, secondo lei il presidente D'Alfonso deve dimettersi oppure no? Il presidente D'Alfonso ha perso sotto tutti i fronti, un presidente che perde clamorosamente, non può fare nient'altro che fare cento passi indietro, si sarebbe già dovuto dimettere in precedenza, ma a maggior ragione oggi lasciare il campo e la porta aperta a noi che siamo l'unica vera alternativa credibile. Sulla sponda aquilana stessa soddisfazione tra i grillini, la senatrice Enza Blundo non vuol sentir parlare di un voto di pancia, ma spiega che è stato un voto ragionato, quello al Movimento 5 Stelle. Il nostro movimento ha dimostrato di essere vivo e vegeto, di non essere per nulla distrutto o messo all'angolo, anzi credo che questo voto non sia poi neanche del tutto di pancia come fu all'epoca, perché credo che ci sia stato un voto ragionato di riconoscimento proprio dell'impegno, dell'onestà del nostro lavoro in trasparenza e di tutto quello che abbiamo sempre promesso e poi concretamente mantenuto.